Mi accorgo che devo delle risposte a Rastafari, che mi ha chiesto esattamente questo. La prima volta me l'ho chiesto una settimana fa. In questo modo. Vero anche che la fede non deve essere fatta di chiacchiere. Ma chi conosce le opere della fede se non colui che ha la fede? Secondo te quali sono tali opere? Io questa domanda non l'ho ancora evasa. Allora, sempre una settimana fa, Rastafari mi chiede con precisione. Bene, vedo che sei in linea. Io forse non mi sono espresso molto bene in ciò che volevo dirti. È riferito alle tue parole nel filmato quando dici che la fede non deve essere fatta di chiacchiere. Comprendo pienamente la tua risposta basata sulla delusione di Taluni verso i tuoi buoni intenti, verso la sua ora di cui ti stava a cuore il suo destino. Però, tralasciando quella tua vicenda, posta forse un po' troppo nel personale, io mi riferivo a queste parole delle scritture. Giacomo 2,20 Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2,26 Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Sperando di essermi finalmente spiegato, ora te lo chiedo di nuovo. Secondo te, quali sono le opere della fede? E ancora una volta io sono restato in silenzio, non essendomi accorto di questa domanda. Ne ricevo tante, e scusatemi se ogni tanto io difetto nella prontezza della risposta. Ma quando accade, fate come la Stafari che insiste. E verrà la volta buona in cui, dopo la terza volta che me lo chiede, sei ore fa, mi dice Romano, le opere della fede sono i prodigi e i miracoli, non le chiacchiere. Sai quale persone le possono fare? Ecco, dalla domanda, secondo te, quali sono tali opere? Rashtafari è passato alla conclusione, lo ha fatto lui. Sono i prodigi e i miracoli, non le chiacchiere. Vediamo allora di distinguere bene in tutta questa vicenda. La domanda iniziale, come avete visto, ha riguardato un qualcosa che concerneva Questa domanda è stata fatta con estrema esattezza. Ve la ripeto proprio perché è una domanda assai importante. Non dobbiamo essere piuttosto precari nel nostro rispondere, rispondendo, come si suol dire, Roma per Toma. E in questo caso io desidero essere proprio preciso e puntuale nella risposta data al mio amico. Sto tergiversando un po' perché devo vedere sul video esattamente le domande, così rispondo avendo io davanti le domande, mentre qui la webcam riprende me che leggo queste domande. Secondo te, quali sono tali opere? E in precisione, con il riferimento a Giacomo 2,20, che dice Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? E poi riprende ancora. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Io, nei confronti delle interpretazioni che sono fatte anche dai personaggi che hanno seguito Gesù e che poi hanno espresso le loro verità, prendo sempre le distanze, non nel senso che obietto per partito preso, ma ho la generale abitudine di porre tutto quello che è detto in relazione alla verità, ma, anche quando è il pensiero di Gesù che è detto in relazione alla verità, sottoporlo a un giudizio critico secondo una ragione che non sia unilaterale, ma che comprenda tutte le ragioni e anche tutte quelle esattamente uguali e contrarie. Insomma, che consideri ogni cosa. Infatti, questa è la ragione che deve spiegare la fede sulla base della verità. Lo riconobbe di recente, 17 anni fa oramai, 16 anni fa oramai, il santo Papa Giovanni Paolo II, quando con l'enciclica Fede e Ragione, Fides et Razio, provocò i filosofi affinché facessero di tutto per superare il loro isolamento se la loro attività, finalmente, era riportata sui valori fondamentali dell'esistenza. La filosofia, secondo il Papa, si era un po' persa, aveva abbandonato la fiducia in se stessa e non indagava più le ragioni fondamentali come era accaduto nel suo inizio. Si era un po' ritagliata un contesto nello spirituale, in quello psicologico contesto cui la scienza non arriva, proprio mettendosi in sottordine alla scienza. La verità scientifica è talmente precisa e basata sulla esperienza reale nella sua verità che nei confronti della filosofia ha determinato una sorta di timore di ricalcare gli stessi contesti seguiti dalla scienza. Invece il Papa dice no, abbiate il coraggio di credere molto nelle capacità della ragione umana in un modo tale che abbandoniate questa specie di dimessa ricerca che la filosofia ha fatto di recente andandosi a scovare quei contesti in cui la scienza non è arrivata a trionfare. Volate alto e tentate di dare una immagine vera della realtà perché io sono certo, questo è il pensiero e la fede del Papa che, ed era quella già appartenuta a Santo Maso d'Aquino che la ragione ispirata dalla fede non avesse nessuna possibile residua, zona d'ombra e di mistero. La ragione sarebbe arrivata ovunque se una ragione poggiata su quella verità che è il fondamento di Gesù Cristo che si descrisse via vita e verità. Proprio su questo assunto che il pensiero di Gesù fosse espressione della verità il Papa non ebbe a contimore a dire ai filosofi voi che siate cristiani o meno usate la ragione nella ricerca della verità quella fondamentale perché, e il Papa non lo disse io sono sicuro che se arrivate alla vera verità essa è quella di Gesù Cristo e la fede ha bisogno di tutto questo perché se riesce a dimostrare vero ciò che Gesù affermava essere vero non per ossequio non per fede verso l'autorevolezza di Gesù che aveva annunciato quelle verità in cui credere ma per scrupolo proprio scientifico del ricercatore che ricerca la verità sulla base della verità e non dell'autorevolezza di chi la dice ecco io ho assunto proprio questo criterio che era le speranze del Papa di non partire mai da una affermazione come questa di Giacomo che dice insensato vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore oppure ancora il pensiero citato di Giacomo come il corpo senza lo spirito è morto così la fede senza le opere è morta ecco anche di fronte a queste affermazioni davanti alle quali io cristiano perderei questo mio essere cristiano se mi discostassi da questa verità anche di fronte a questa verità io la subordino alla sua ragionevolezza questa volta Giacomo non afferma un pensiero di Gesù Cristo ma sta sostenendo una verità per conto suo non è citato Gesù che dice in verità in verità io vi dico che è il pensiero di Giacomo che dice insensato vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore ecco fede e opere perché non avrebbe valore perché le opere sono una operazione fatta dall'uomo questo è ciò che sembra dirette queste operazioni dalla vera fede che esiste che è quella secondo la logica del mondo per cui secondo la logica del mondo ossia la verità creduta da doversi seguire nel mondo tu operi e poi ti accorgi che hai operato molte volte contro fede perché mentre la fede ti diceva per esempio non rubare tu nell'azione tua ti sei scoperto ladro ecco perché la fede senza che questa fede ti impedisca di essere un ladro non ha vero valore perché è una fede in una verità astratta che quando entra nel concreto di una scelta operativa denuncia quale fede davvero l'uomo segue quello di una ragione che avvalora l'egoismo in un modo grandioso tanto che se tu hai rubato e ti sei impossessato del bene altrui magari creando un tale squilibrio che hai tolto beni preziosi a intere popolazioni affamate perché magari il tuo popolo ha il petrolio e tu lo vendi all'estero e fai quattrini ma questi quattrini invece di ricadere a pioggia sui popoli tanto da togliere di mezzo la fame vanno a finire magari nelle tue tasche private in conti all'estero per cui tu re tu despota di questo luogo sei un grande ladrone e arricchisci sulle spalle di chi povero Cristo deve patire questa tua condizione ebbene tu che stai agendo così che sei il re di questo luogo e che magari ti professi uno che ha fede nei valori positivi che sono quelli di Dio all'atto pratico dimostri di avere fede non in questi valori ma nei valori dell'opportunismo che di fronte alla bilancia tra il bene tuo e il bene altrui mette tanta considerazione sul valore del bene tuo che è giusto che sia ottenuto anche se milioni di persone muoiono poi di fame ecco una fede da parte di costui è soltanto un valore utopico perché all'atto pratico costui non opera secondo quella fede ecco perché secondo Giacomo tra fede e opere ci deve essere una reciproca coerenza perché se essa non esiste e le opere non sono dirette secondo quella fede ma proprio secondo i valori opposti a quella fede smascherano una falsa fede perché l'uomo crede poi logico doveroso il suo arricchimento e questa è la sua vera fede la fede nel valore totale dell'egoismo frenato spinto fino alle estreme conseguenze ecco qui il l'apostolo di Gesù Giacomo dice che questo è un po' un test che ciascuno di noi può seguire per scoprire la verità della propria fede perché la fede senza le opere non ha valore io proprio come osservatore di questa logica dico che questa è la logica del mondo perché è la logica del mondo perché è la logica che crede che nel mondo sia l'uomo a fare e a decidere e a comandare perché l'uomo avrebbe ricevuto da Dio questo input e poi in un certo senso Dio si sarebbe tratto da parte dicendo io ti ho creato ti dico devi operare per il bene e adesso mi metto in disparte lascio che sia tu a compiere le opere anche compiendo quelle che sono contrarie alla mia volontà e infatti se l'uomo reso veramente così apparentemente libero con il suo libero arbitrio di compiere il bene o il male è messo in condizione di compiere il male Dio stesso avrebbe compiuto un azzardo perdendo proprio quella autonoma e eterna capacità di essere l'unico vero gestore di tutta l'esistenza avrebbe creato diciamo così un momento in cui le sue scelte il suo volere si sarebbe messo in disparte perché il suo volere arrivati a questo punto era quello di non volere più per un certo momento lasciando al volere umano il compito di volere o non volere insomma come se Dio per certi momenti che poi durano tutta l'esistenza reale del mondo non è che è un momento breve è tutta l'esistenza reale del mondo in cui da quando l'uomo esiste fino a quando esisterà la volontà di Dio è stata solo quella di togliersi di mezzo per concedere all'uomo la capacità fattiva e permettetemi se questo durasse qualche tempo e poi cessasse di essere così si potrebbe comprendere un Dio che per un certo pezzo di esistenza si nasconde come operatore perché poi avrà la sua vittoria si potrebbe comprendere così ed è così che va compreso ma con riferimento nei confronti della realtà a un tempo complesso in cui tutto il mondo reale dal principio dell'esistenza fino alla fine dell'esistenza e ciò riferito a ciascuno questo tempo è solo un tempo che deve essere piccolo determinato praticamente senza grande importanza perché laddove esso è determinato è inserito come determinato in un infinito tempo tanto che la sua determinazione reale all'interno di un qualcosa che è addirittura infinito è zero perché se noi andassimo a guardare l'incidenza di un tempo determinato che fosse l'uno per cento è già un tempo abbastanza piccolo l'uno per cento però questo cento sarebbe determinato quando è più grande diventa mille e diventa la vita umana l'uno per mille quando diventa diecimila è l'uno per diecimila quando diventa infinitesimo capite che è proprio nulla se l'infinito è tutto perché il valore infinitesimo è proprio ciò che è contrario al tutto e che cos'è contrario al tutto il niente vedete in questa logica e solo in questa logica si può ammettere perché Dio ha lasciato questo spazio apparentemente lunghissimo in cui esiste la vita umana dentro un contesto che è talmente ampio talmente espanso che la sua determinazione praticamente è zero all'interno di un valore che è l'opposto di zero ed è tutto vedete in questa opera si può capire e allora però è questa opera nel suo insieme che va tenuta presente perché se essa vale in tutto il suo insieme laddove tutto l'insieme vale tutto e ciò che è reale determinato vale niente ecco che questo valore che sembra così chiaro e così nelle mani dell'uomo è un valore che non vale niente insomma l'opera umana che sembra essere responsabile non ha alcuna responsabilità perché è dentro un disegno così sbilanciato tra ciò che è assoluto e ciò che è determinato e relativo come proprio il valore esattamente uguale contrario a quello che è assoluto il valore unitario di un'esistenza in cui l'assoluto sia infinito e il determinato sia infinitesimo proprio armonizzando i due opposti di infinito e infinitesimo determina quella unità in cui l'infinito ha un valore totale e invece l'infinitesimo praticamente ha un valore nullo allora tutti i criteri che valgono nel contesto della vita umana che sembrano avere un valore totale e determinato tanto che la fede senza le opere non ha valore tutto questo insieme che relativamente è esatto in assoluto non lo è più perché tutta questa opera determinata è frutto dell'azione legata a un totale che non si presenta in quel suo valore di totale ma si presenta nel modo esattamente uguale contrario a quel totale che è uno diviso totale e essendo esattamente uguale e contrario a ciò che è veramente la potenza trascendente divina tutta l'opera umana non è mai trascesa dalla totalità dell'opera divina è sempre una manifestazione dell'opera divina che è quella totale di conseguenza quando noi arriviamo a ragionare proprio con riferimento non solo all'unità della vita umana ma all'unità di tutta la vita e di tutta l'esistenza scopriamo allora che la vita umana è in un divino disegno ossia in un disegno che trascende l'apparente responsabilità assunta dall'uomo e l'uomo capisce che questa opera che vede compiere a se stesso e che sembra frutto della sua capacità di compierla in effetti rientra solo in un disegno assegnato alla parte determinata come un creatore totale che nella necessità di mandare in scena una sua opera si fa in quattro e la vivifica la mette in atto la interpreta essa è assegnata all'interno della totalità e è semplicemente assunta proprio come un attore assume un qualcosa che sulla scena sembrerà frutto della sua azione vera e libera ma che nella sua verità è soltanto una azione voluta non dall'attore che sembra volerla ma dal creatore dell'opera che ha voluto che sembrasse così allora proprio nei confronti della considerazione dell'esistenza di Dio proprio pensando a questo si scopre che questa condizione di fede e di opere che sembrano messe una in dipendenza dell'altra sono totalmente separate che chi ha fede e secondo la fede vive una sua dimensione spirituale e chi invece opera secondo una apparente sua dimensione reale non sono una reale opera interattiva sono semplicemente due parti ben divise tra di loro in cui l'unica relazione è quella che esiste nei confronti di un attore che si vede assegnata una certa opera che l'attore si veda assegnare una certa opera piuttosto che un'altra come è logico anche nel nostro sistema di spettacolo è coerente perché se un attore è rinomato per le parti che ha recitato altre volte tipo un giallo perché è uno specialista della parte del investigatore ecco questa capacità di tradurre in atto in un modo magistrale i vari Sherlock Holmes Perry Mason e tutti quelli che volete rivela una capacità di interpretare tanto che un regista che sia oculato dovendo assegnare quella parte di un'opera che è opera sua la assegna a lui piuttosto che a uno che non ha la capacità di interpretare bene la parte dell'ispettore di polizia ecco c'è una relazione ma semplicemente perché il regista rende coerente quello che è il carisma dell'attore con quella che è la parte da interpretare ma è per scelta del regista forse è anche l'attore che si propone in certi casi per interpretare quella parte e allora magari offrendosi è scelto però più che questo non esiste tra la fede in un certo modo di esistere tipo il modo di esistere dell'investigatore e le opere che poi questo investigatore dovrà investigare c'è soltanto un atto di fede per certe verità da una parte e poi le opere saranno indipendenti da questo atto di fede del attore ecco in una verità superiore quello che ha affermato Giacomo non è vero è vero solo laddove si creda che tra la fede e le opere c'è la capacità dell'uomo di fede di tradurre in atto la sua fede ma ciò sembra essere e per fortuna non è tanto che in realtà anche se sembrerà che quell'attore ha fatto quelle opere quando si arriverà alla condizione della verità apparirà chiaro la sua interpretazione è stata solo quella di un attore non della scelta delle opere nel loro specifico semmai proprio come un orientamento di capacità ripeto quella di un attore che ha capito come un certo contesto operativo sia nelle sue corde emotive tanto che si propone come il personaggio del detective laddove c'è un'opera che rappresenta un detective che entra in opera dunque è in questo modo che emergono due logiche la prima solo quella del mondo e quando Giacomo sta dicendo questo che il corpo senza lo spirito è morto così anche la fede senza le opere è morta ha una validità relativa soltanto alla logica del mondo e non alla logica di Dio la logica di Dio è questa io sono sempre il responsabile di ogni cosa se a te attore consegno una parte da interpretare ho voluto che tu la ricevessi quella parte e che dovessi poi farla come io l'ho disegnata quindi tu non sei responsabile ognuno di noi quando sa la verità e la sa alla fine della rappresentazione e vede arrivare sul palcoscenico sia l'attore del personaggio cattivo bieco sia quello della vittima e escono tutti e due per un riconoscimento di merito ricevono entrambi l'applauso perché lo spettatore quando ha capito il vero ha capito che i gesti che sono apparsi compiuti da un essere vitale non dipendevano da quell'essere vitale che era semplicemente un attore che metteva in atto una certa scena non dipendevano da lui da lui dipendeva solo l'interpretazione ma quando siamo ai livelli in cui Giacomo sta dicendo questo sta seguendo solo la logica del mondo che è quella logica di un uomo responsabile della propria fede certo che l'uomo è responsabile della propria fede ma non nel termine fattivo certo che è responsabile della propria fede ma non per le conseguenze sugli altri per le conseguenze su di sé infatti se un uomo ha fede e poi nell'ambito di ciò che accade e sembra contraddittorio perché io voglio il bene e vedo compiere il male e allora io o Dio e questo è il ragionamento fatto da chi un grande santo che è venuto ad aiutare Pietro Paolo proprio Paolo diceva io conosco il bene e poi faccio il male e allora come la mettiamo forse che Paolo non ha fede in quel conosco il bene e faccio il male Paolo lo diceva per rivelare una sola cosa la sua incapacità di tenere botta alla sua fede egli era piccolino nel potere del suo spirito era un povero di spirito perché aveva l'idea di un bene grandioso e poi l'atto pratico tante volte scopriva se stesso proprio come se non avesse fede ecco quando Gesù ti dice sii modesto non significa sii infingardo e non metterti mai in mezzo nelle cose del mondo ma dice non sopravvalutare la potenza delle tue idee e delle tue volontà fattive perché questa potenza che sembra esistere di fatto non esiste e quando il Signore ti fa vedere proprio il contrasto tra la tua fede e le tue opere ti sta aiutando perché ti fa capire quanto poco sia il potere della tua fede sugli altri invece è grandioso su di te perché se tu vuoi fare il bene agli altri non lo starai mai facendo agli altri lo starai facendo a te sono le buone intenzioni verso gli altri che inducono sacrificio verso di te che fanno bene a te che poi all'atto pratico queste buone intenzioni arrivano a essere considerate da taluni come l'inferno è l'astricato di buone intenzioni sempre nella logica del mondo per cui queste buone intenzioni non sono veramente buone intenzioni se all'atto pratico esse non si traducono in una opera questo è falso perché le buone intenzioni sono sufficienti a creare un uomo pieno di buone intenzioni questo è il lavoro affidato a un'anima nell'arco della sua vita fare il bene di se stesso pulire se stesso e se un'anima piena di buone intenzioni poi vede proprio nel disegno che Dio ha affidato all'anima che il personaggio compie il male è proprio nella volontà di Dio di essere chiaro non esiste una relazione tra le tue buone intenzioni di fare agli altri perché la verità è che tu agli altri non stai facendo proprio nulla stai facendo tutto e solo a te stesso e facendoti vedere la tua incapacità la tua impossibilità di tradurre in atto le tue buone intenzioni tu farai un'opera grandiosa in te stesso perché abbatterai il credere in te fino a ammettere che tu nel tuo essere non conti nulla perché conta l'essere di chi veramente gestisce il mondo ed è quel valore totale in cui esiste un'opera che è l'esistere uguale e contrario di quel totale se il totale è infinito esiste l'infinitesimo e di conseguenza anche tu nel tuo attimo di esistenza infinitesima sei poco più di nulla e se lo capisci capisci che sei l'immagine esatta uguale e contraria a quella totalità dello spirito che è il valore proprio simmetrico al tuo ma uguale e contrario al tuo è in ragione precisa in cui tu abbatti il valore di te stesso non fino a zero ma quasi è proprio in relazione a quanto tu in questo momento tu spirito stai facendo demolendo la presunzione di te stesso e assumendo la povertà totale dello spirito è in questo preciso momento in cui tu essere relativo assumi questa povertà che sei vero perché la tua verità nell'unità di dio vede il tuo opposto proprio come quel dio onnipotente che è tutto all'opposto di te ma che non è fuori di te perché interagendo con te è uno come n ennesimi ecco l'uomo non deve azzerarsi del tutto deve considerarsi poca cosa proprio come aveva voluto definire se stesso Paolo perché si chiamava Saulo e volle chiamarsi Paulus che significa cosa da niente piccolina una cosa Paulus un niente ecco la povertà dello spirito è la condizione in questo ambito che è uguale al contrario a quello totale che rappresenta la verità di quello totale nel valore esattamente uguale contrario a questo reale passiamo ora al rispondere che perché l'amico qua mi dice sperando di essermi finalmente spiegato ora te lo chiedo di nuovo secondo te quali sono le opere della fede le opere della fede stanno proprio in questo assumere in sé non la nullità ma quel valore di un paulus di un qualcosa che è minimo proprio perché essendo il nostro spirito nella stessa sostanza dello spirito generale il nostro essere nel relativo è l'immagine esattamente uguale e contraria a quella di chi è l'essenza totale di ogni relativo allo spirito e di conseguenza per mettere in atto antitetico al nostro una vera onnipotenza bisogna che l'uomo assuma in sé stesso il credere nella sua impotenza è solo quando l'uomo si accorge di essere impotente a gestire il mondo è solo allora che in questo suo spirito sta assumendo la verità dei suoi rapporti nei confronti dell'unità di Dio la quale non è che vada oltre all'essere infinitesimo ma coinvolge l'infinito che è il suo valore esattamente uguale e contrario e lo coinvolge in unità è grandiosa l'opera di Dio che mette insieme il quasi tutto con il quasi niente nei confronti di enti uguali e contrari che interagiscono tra di loro alla pari e sembra proprio ingiusto che ciò che esiste come il tutto meno uno e ciò che esiste in modo uguale e contrario come uno diviso tutto e dunque da una parte c'è una totalità pressoché totale e dall'altra parte c'è una piccolezza quasi nulla che queste due cose diametralmente opposte nel senso del grande e del piccolo riconoscano da parte del grande la stessa dignità al piccolo fino al punto da dire nel contesto reale da parte di Dio io sono in tutti i piccoli e per riconoscere tutto questo bisogna andare a giudizio finale espresso nel Vangelo quando Gesù dice che nel suo ritorno dividerà tutti gli uomini in due gruppi capre e pecore e dirà alle pecore avevo fame e mi hai dato da mangiare avevo sete eccetera eccetera e dirà ogni volta che lo avete fatto lo avete fatto a me ogni volta che lo avete fatto in uno dei miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me perché Dio che è tutto meno ciascuno di noi che siamo parte integrale di quel tutto mentre in apparenza ti dà poco o niente ti sta dando tutta la sua unità perché dà tanta importanza a ciò che è piccolo e minuto perché è una parte integrale della sua unità data da n ennesimi vedete perché la dà tutta questa importanza al valore ennesimo perché dalla divisione di n ennesimi risulta un'opera che dura n dura n volte e dovendosi fare una divisione di n in n parti comincia a essere uno dopo l'altro tutto ciò che è distribuito uno dopo l'altro nel tempo e la verità dell'equilibrio ci sarà solo alla fine della distribuzione n diviso per n impone n tempi di divisione in cui ogni volta è diviso uno e poi uno e poi uno e più uno e dopo n volte in cui è diviso ciascun ennesimo ecco che finalmente si è diviso tutto e allora finalmente abbiamo la verità ma la verità è la somma di tutti i tempi della divisione che esiste e è stata sottoposta a n noi vedendo solo il nostro piccolo siamo stati oggetto di un dio che si è diviso in entità ennesime ma dio non si è mai diviso ha assunto n apparenze e a ogni apparenza ennesima ha voluto permettere di stabilire per se stesso il valore ideale e divino di superare la croce che è stata assunta nel mondo reale e quindi vedete la giustizia di dio quando si divide per n concede liberamente a ogni n di organizzare il suo libero costrutto ideale di se stesso ossia di quella fede che è poi tradotta nel risultato della sua opera umana ma andiamo avanti perché alla fine abbiamo avuto il Rashtafari che ha scritto romano le opere della fede sono i prodigi e i miracoli non le chiacchiere sai quali persone li possono fare tutti caro mio li facciamo tutti ma non nel senso che dici tu tu credi che opere della fede siano gli uomini straordinari i personaggi straordinari che sono stati disegnati come apparenti taumaturgi soggetti in grado di compiere miracoli come se Dio avesse discriminato uno dall'altro certo certo che Dio ha discriminato tutto il suo essere n perché lo ha voluto proprio costruire in modo uguale e distinto perché è la differenza che crea bellezza la pienezza dell'essere sta in ogni forma assunta dall'essere lavorare pensare amare gioire giocare nel verbo essere è compreso ogni modalità dell'essere e questi e Dio sono infinite modalità che si esprimono poi in ciascuno di noi e quando ciascuno di noi avrà compiuto tutta l'opera trascendente se stesso avrà fatto e avrà compiuto il suo particolare miracolo quale quello di esistere nella croce e di avere superato idealmente quella croce perché alla fine di una esperienza di croce ognuno avrà idealizzato con precisione che cosa non ci sarebbe dovuto esistere per evitare quella croce la vittoria reale vera sulla croce non è togliere di mezzo la croce è contrapporre alla croce la salvezza dalla croce e questa è un'opera miracolosa che farà ciascuno di noi non è un'opera che è soltanto stata assegnata a Gesù Cristo oppure a quei santi che sono personaggi che sono stati dotati di capacità miracolose nel disegno di tutto il possibile esistevano anche queste apparenti doti concesse a personaggi singoli ma queste qui che sono le più appariscenti sono le meno miracolose perché quando uno che entra come un soggetto apparentemente fattivo dentro un disegno che è fatto tutto quanto da Dio e lo viola perché dimostra di avere una capacità di modificare quel disegno allora questo soggetto che si sta opponendo al disegno di Dio perché lo vuole modificare e ci riesce in un modo divino non è la vera capacità totale che è quella che non appare mai perché la vera capacità totale miracolosa in modo totale è quella che voi vedete all'atto pratico totalmente impotente vedete un soggetto come è accaduto a me quando sono stato al capezzale di mio fratello Benito Amodeo morto vi assicuro io ho cercato di resuscitarlo ho detto signore se nel disegno della mia vita tu mi hai dato responsabilità mi hai dato qualche potere o ti prego mettilo in atto ora fa che questo mio fratello che è morto riprenda vita fa che sia l'opera delle mani che hai concesso a me e ho allungato la mano l'ho poggiata sulla sua fronte nel desiderio totale di ridare vita a mio fratello voi dite ecco vedi tu non sei quello che credevi di poter essere infatti tuo fratello è rimasto lì morto io vi dico che proprio in quella occasione io lo sono stato perché perché noi stiamo vedendo ciò che è nel segno dinamico esattamente uguale contrario a ciò che è la verità dinamica la vera dinamica dell'esistenza fa sì che lo spirito procede dall'alto dell'esistenza verso il basso ossia verso il suo apparente passato mentre invece per opera esattamente uguale e contraria l'uomo vede poi procedere la corporeità dal basso verso l'alto ritornando a quel punto zero della morte che sembra il punto finale ma invece è il punto iniziale veramente da zero perché da quella parte c'è veramente uno zero dall'altra c'è una vita che non comincia veramente da lì perché anche se la vita del singolo che comincia nell'ovulo sembra cominciare da lì è semplicemente il comporsi del sistema genetico del padre e della madre che è già una condizione di una vita tra i due genitori che si mescola nel piano costruttivo della nuova vita quindi in quella posizione lì non abbiamo un vero inizio della vita certo della vita singola che proviene dalla vita di due singoli che si sono dimezzati ciascuno nel apparente DNA e miscelando il 50% di ciascuno ne è venuto fuori un nuovo individuo unitario fatto di due mezzi ecco in quel punto lì non c'è il vero inizio se non della forma singola assunta da padre e madre è nel momento della morte in cui c'è il vero inizio perché in quel preciso momento tutto è zero ed è da zero che comincia il vero inizio e lo zero della vita umana singola è esistente solo nell'attimo della morte è da lì che comincia la verità e da lì c'è una fase di moto spirituale retroattivo rispetto al modo apparentemente attivo che avrà l'aspetto materiale esistono azione negativa meno uno e sulla sua base come atto uguale e contrario a questo prestito di vita c'è la restituzione della vita noi non possiamo restituire una vita allo zero se non c'è stata data in prestito da zero non possiamo nascere se non in negativo però essere proiettati alla visione uguale e contraria del positivo di conseguenza in questo preciso momento in cui io vi sto parlando io sono dimezzato in due movimenti uno in azione l'altro in azione uguale e contraria il moto in azione spirituale è disceso dallo zero della mia morte fino al momento di ora e grazie a questa discesa io mi ritrovo ora ad avere davanti tutto il percorso esattamente uguale e contrario che mi riconduce a quello zero vedete la morte è già vinta perché se in questo momento io sono vivo lo devo solo al fatto che rispetto al momento zero della mia esistenza io ho potuto scendere sotto zero e come è possibile scendere sotto zero proprio creando nello zero una dissociazione in due dinamiche una più uno e l'altra meno uno e componendole tra di loro non sommandole componendole comporre più uno con meno uno significa moltiplicare tra di loro meno uno e più uno e il risultato immediato di questa composizione è meno uno questo è il risultato immediato di una vita che nel rispetto del terzo principio dinamico della fisica compone azione e azione esattamente uguale e contraria se i due valori che si compongono sono più uno e meno uno ecco che il risultato è meno uno mi ritrovo lì nell'ovulo nel momento in cui io poi finalmente posso cominciare a risalire e a restituire attimo dopo attimo tutta la mia vita che mi è stata prestata fino a restituirla tutta e a restituire non solo quello ma anche l'interesse per il prestito e l'interesse per il prestito sarà uguale al valore unitario del prestito e mi ritroverò dunque riproiettato nuovamente verso il basso perché sarà l'interesse che mi verrà finalmente reale a me non più come un prestito ma come l'interesse di questo percorso spirituale e l'interesse è proprio questo ho avuto questo l'ho verificato in tutti i modi e l'interesse legittimo che mi viene da tutto ciò è questo questo è il valore ideale con il quale io abbatto la mia croce questo sarà l'interesse di tutti quanti ma chi fa il massimo miracolo in tutto ciò lo fa proprio chi apparentemente in tutto ciò non compie nessun miracolo perché rimane proprio quel gesto tentato da me assolutamente impotente a dar vita a mio fratello ma solo quando ciò non appare in nulla solo allora la sua verità trascendente in modo totale ossia divina in modo totale è proprio quell'altra uguale e contraria se invece si vedesse ora qualche capacità da parte del mio volere sarebbe un compromesso rispetto alla vera salvezza perché la vera salvezza totale accade quando tu in apparenza sembri essere crollato totalmente se non sei crollato totalmente ma per il 50% la tua salvezza trascendente sarà al 50% quindi caro mio quando mi dici romano le opere della fede sono i prodigi e i miracoli io ti dico che non sono le opere della fede le opere della fede sono proprio quelle che a giudizio di tutti sono fallimenti l'opera della fede in Cristo non è stata tanto per l'umanità la sua prova della sua resurrezione che ha dato a tutti è stata la sua croce la vera opera miracolosa di Gesù Cristo non sono stati i vari miracoli che egli ha fatto durante tutta la sua vita ma è stata la sua morte nel caso reale Gesù sarebbe stato veramente miracoloso e divino in tutta la sua vita se non avesse fatto mai nessun miracolo non facendo mai violenza al disegno di Dio ma il disegno di Dio era che questa violenza apparisse fatta perché l'uomo se non vede questa violenza al disegno di Dio non crede che chi violenti sia Dio e allora per l'incapacità dell'uomo accade tutto questo ma per andare veramente in quello che ha chiesto il mio amico chiedendo Romano le opere della fede sono i prodigi e i miracoli non le chiacchiere io ti dico che le opere della fede riguardano una presenza in Dio di ogni valore uguale e contrario come eterna e estrema giustizia niente può esistere in Dio nel passato o nel futuro o nel presente che lo condizioni ogni cosa è sempre controbilanciata esattamente del tipo n su n ma attraverso questa divisione entra in atto un tempo che si mostra unitario in un susseguirsi è solo alla fine che si fanno i calcoli e i conti e si vede che tutto è giusto perché tutto n diviso n è stato diviso e distribuito fino a quel momento sembrerà che sia gratificato ognuno che nel presente riceve quello che deve avere il suo momento di gloria e che fa conoscere che altri nel passato lo hanno avuto essi pure e ci saranno tanti altri che invece dicono io non ho niente io sono uno dimenticato da dio in questa distribuzione a ciascuno della totalità di dio ma non è così siamo dentro questa verità di distribuzione di n ennesimi la vera fede prescinde dal momento della divisione perché porta a credere che se è vero che n diviso n è uguale uno ognuno avrà il suo uno ma deve avere pazienza perché ciò in genera una visione di tipo divisionista ossia che si divide in componenti uguali e distinte tanto che l'unità è vista per singole componenti presenti una a una in un tempo praticamente infinito la vera condizione divina esiste in mancanza di apparenti miracoli divini che superino quella condizione di vincolo che dio ha messo in una natura che apparentemente si fa secondo le sue sole regole senza nessuna perturbazione di queste regole allora e solo allora esiste veramente in atto dio ma questo dio in atto così visto da parte nostra sembra un dio che non compie niente perché sembra che tutto è compiuto dagli uomini e secondo un disegno che non è comandato da dio ma da un cesare è cesare che gestisce il mondo è cesare che gestisce questa vita siamo in un mondo come quello che era quello del popolo di dio quando era governato dal faraone che ti consentiva di fare alcune cose e altre no ma sappiamo bene che questo popolo di dio a un certo punto fa il suo esodo e va verso una realtà esattamente uguale e contraria il cui vede finalmente operato da parte di dio il rovesciamento totale di tutti i valori che c'erano prima non domina più il faraone ma domina dio è dio nell'arca dell'alleanza che detta i tempi dei movimenti del popolo di dio nel deserto è dio che alimenta con la manna con le quaglie che abbevera con le dodici sorgenti che fa scaturire nel deserto e sostiene non solo il popolo ma anche tutti quei capi di bestiame che erano una quantità enorme e che hanno avuto essi pure modo di essere alimentati e da che e da cosa lì nel deserto in cui non c'era nulla da dire ecco l'uomo vedrà dopo questo momento iniziale della sua esistenza in cui crede di essere libero ma è schiavo di un faraone che si chiama dio vedrà il momento in cui dio lo libera e lo riporta a una apparenza di incapacità personale tanto che come accade nel deserto i vari personaggi che erano stati più attivi prima si lamentano cosa possiamo fare qui non abbiamo più niente da fare cosa mangiamo questa manna che è così scialba in egitto si avevamo la minestra la sera ma la cucinavamo noi eravamo noi a fare e qui ora noi non facciamo più niente ecco dio che ti salva visto da un uomo che non ha fatto tesoro della salvezza operata da dio non ti fa capire che guidato da dio sei tra braccia sicure no ti fa ancora perdurare a credere che tutto il bello della vita sta quando sei tu che fai sei tu che scegli anche se facendo questo scegli in un modo selettivo perdi sempre più il tuo potenziale delle opere che puoi fare fino a un punto in cui consumata tutta la benzina tiri le cuoia e muori l'uomo si contenterebbe di una roba del genere e l'uomo che si contenta di una cosa del genere è l'uomo che arriva a dire è per forza io non ho visto presente dio perché se fosse venuto dio avrebbe fatto dei miracoli come se ciò che perturba il disegno di dio ossia i miracoli siano la manifestazione di dio e non di chi li perturba ma se questo modo perturbato non si evidenzia l'uomo diventa totalmente incapace di capire che dopo il percorso della vita visto in un certo senso venga quello esattamente uguale e contrario che la salva non ci arriva a capire perché laddove tutto appare dall'esperienza l'esperienza umana è solo di un uomo nato per morire che cosa può farti capire che esiste una entità che ti salva se non fartela entrare lì nel disegno come una entità che apparentemente ti salva per questo dio fa il compromesso con se stesso ma i miracoli che appaiono sono una perturbazione della fede che dimostra di avere le gambe veramente deboli di non credere se non ci mette il naso come sant'ommaso è una brutta cosa questa per la fede perché perché l'uomo crede solo dopo aver visto i miracoli come sant'ommaso che crede solo dopo aver visto davanti a sé Gesù risorto e aver messo letteralmente le dita nel buco dei chiodi è per una umanità tutta messa a livello non di chi ha fede ma di chi non ce l'ha a livello di santo omaso che dio ha dovuto fare questi miracoli perché l'uomo che veramente crede non ha bisogno di questi miracoli non ce l'ha e quindi la resurrezione reale con cui Gesù si manifestò agli apostoli fu proprio perché Dio davanti al popolo dei suoi fedeli si rende conto che è davanti a persone di una totale povertà di spirito sono tutti quanti come dei santo omaso che se non vedono non credono e allora se da una parte è necessario che ritorni appositamente per santo omaso quando santo omaso non c'era è tornato apposta perché Dio sapeva che gli apostoli erano altrettanti santo omaso e per questo Dio ha mostrato il miracolo della resurrezione di Gesù proprio per la povertà di fede dei discepoli che dovevano sapere che se Gesù era morto la verità era trascendente dovevano saperlo e invece proprio grazie al bisogno che avevano di essere supportati dal miracolo Gesù si presenta a loro quando le porte erano chiuse e passa attraverso i muri si mostra loro loro poi raccontano a santo omaso che Gesù è venuto così e cosa e santo omaso cosa dice agli altri io non ci credo se non lo vedo e gli altri un po' si scandalizzano perché santo omaso non ha fede in loro nel loro racconto quando tutti loro non avrebbero avuto fede in Gesù che aveva annunciato la sua resurrezione se non l'avessero vista e allora Dio si fa vedere risorto ma questo miracolo che accade è per la mancanza di fede di tutti quanti quelli lì evidenziata poi dalla mancanza di fede di santo omaso tutti gli uomini sono dei grandi santo omaso se non credono a Dio se non sulla base dei miracoli ecco per cui quando tu dici romano le opere della fede sono i prodigi e i miracoli non le chiacchiere ti dico che queste non sono le opere della fede sono le opere della mancanza di fede per cui se non ci fossero queste alterazioni rispetto al volere di Dio l'uomo non avrebbe fede non sarebbe capace di capire che dentro la sua realtà apparentemente mortale c'è un'opera di totale salvezza solo i più poveri i più poveri di spirito arrivano a sentirlo che non è possibile questa vita così come appare totalmente condannata alla croce e allora sono provocati a fare scaturire dal loro limite un Dio di salvezza e da creature come sono diventano creatori della necessità di un Dio questi sono quelli che hanno vera fede perché di fronte alla croce superano la croce e dicono ci deve essere la salvezza dalla croce e non hanno mai visto nessuna salvezza da quella croce invece gli apostoli che sono lì chiusi tra le mura e che sono gratificati da Gesù che si presenta a loro come soggetto degno di fede lo fa perché quegli apostoli così persone che avevano conosciuto Gesù in quel modo lì non si sono contentati della dichiarazione che aveva fatto io vado a morire ma non temete risusciterò non gli credono quando è morto e perché non gli credono perché difettano di fede hanno visto Gesù in tutta in tutto quel periodo di tre anni che sono stati con lui e lo hanno visto capace e veritiero di comandare sulla vita e sulla morte quando ha messo in vita proprio una settimana prima di andarsene quel fratello di Marta e Maria quel Lazzaro che già mandava cattivo odore e lo hanno visto risuscitato e quando Gesù dice morirò ma non temete risusciterò non gli credono non credono alle donne che arrivano da sepolcro e gli dicono abbiamo visto il Signore risorto non gli credono gli apostoli che sembrano soggetti pieni di fede sono proprio coloro che non hanno fede sono tanti santo maso che hanno bisogno umanamente nella grandezza che Dio gli dà avendoli scelti di essere supportati da una grande quantità di miracoli per la mancanza di fede ecco dunque caro amico che quando mi dici le persone le opere della fede sono i prodigi e i miracoli non le chiacchiere no le vere opere della fede sono quelle che ti portano a credere che tutto questo apparente dominio di Satana è il dominio di un Dio di salvezza questa è la vera opera di fede non quella che si poggia sui miracoli è questa perché poggiarsi sui miracoli non fonda la tua fede nella verità di un Dio onnipotente ma nella verità dei miracoli non sono i miracoli che ti devono far credere in Dio sono l'opera generale di Dio che esiste ed è normale proprio quando i miracoli non si vedono è perché allora che tu vedi un mondo apparentemente dominato da Satana ma è una dinamica che è quella uguale e contraria di un morto che ritorna bambino nella verità che è il prestito della vita in quella verità che diventa poi l'interesse per la vita infine mi chiede Rash Tatafari sai quali persone li possono fare quelle che Dio e solo Dio ha deciso che debbano farli non sono certo io io ho capito non sono certo io i soli miracoli che sono compatibili con tutti i miei tentativi di farli sono accaduti indipendentemente dalla mia volontà io ho visto anche fatti da me dei miracoli voi non mi credete perché siete altrettanti San Tommaso nei confronti della mia esistenza e di quello che vi dico ma c'è stato un giorno un 2 giugno di quando io avevo circa 25.000 giorni in cui io ho visto me stesso ridare vita a 6 rondinelle 5 erano solo tramortite una era propria morta affogata e io che le ho viste non insieme ma solo una dopo l'altra tutte 6 le ho raccolte tramortite tramortite da terra le ho portate sul palmo della mia mano verso la finestra e nell'attimo preciso in cui io ho fatto questo gesto verso la finestra esse hanno preso vita e sono volate via passando all'improvviso proprio da una condizione di tramortimento a una condizione di volo al mio gesto che era questo per 5 volte una dopo l'altra una volta di queste 5 una di queste rondinelle mi ha segnalato che era viva perché ho sentito sul palmo della mia mano la morsa delle dita ungulate di questa rondinella sentivo il pizzicorino che mi dava questa rondinella che è appoggiata sul palmo della mia mano aveva la capacità di muoversi ma non di volare via dalla mia mano questa capacità l'ha avuta solo quando io ho fatto così con la mano e tutte e 5 le volte appena io faccio così con la mano non è che devo contare 1, 2, 3 no tutte e 5 le volte faccio così la rondinella riprende vita e vola l'ultima volta era una rondinella che avevo trovato annegata nella tazza era lì che osservandola mi era apparso un escremento osservandola meglio ho visto che era soltanto il di dietro della rondinella perché era tutta a testa in giù dentro il liquame allora l'ho tirata fuori vi assicuro era morta l'ho messa sul davanzale e poi ho cominciato a pregare signore cos'è questa rondinella avevo visto già volate via le altre 5 cos'è questa rondinella ti prego ridà le vita aveva le zampette legate tra di loro da un filo di vegetazione pazientemente ho sciolto quel legame e poi ho cercato di alitare su quella rondinella ma che era morta allora ho detto forse se l'asciugo l'ho presa e portata in cucina ho acceso il gas e sotto il tepore della fiamma io la tenevo così sulla mano perché sentisse il tepore ma niente sono trascorsi quasi 5 o 6 minuti e ho deciso di sedermi nel preciso momento nel quale io con la rondinella tra le mani mi siedo sul divano e quindi sono costretto ad abbassarmi avverto un inizio di vita nella rondinella che sentendosi mancare istintivamente ha tirato fuori da qualche parte il bisogno di volare e l'ho sentita muoversi e allora ho cominciato a toccarla a carezzarla ha aperto gli occhetti era lì che mi guardava e non si muoveva e ho cominciato a parlarle pensando se io ora parlo questa mi sente e vola via ma che io parlavo la toccavo con il mio dito indice della mano sinistra la carezzavo e siamo andati avanti così per qualcosa come 10-15 minuti e la rondinella rimaneva sulla mia mano e non si muoveva anche se aveva gli occhi aperti a questo punto io ho detto beh vediamo cosa succede se io adesso esco e non sono uscito perché non ero nel gabinetto sulla finestra ho aperto il balcone sono uscito sul balcone e ho fatto così appena ho fatto così la rondinella è volata via come se non ne fosse mai successo niente era morta era risuscitata io ho visto compiere da me questo miracolo che non so come ho fatto in questo modo io ho visto in me compiere un miracolo ma tutto a mio uso e consumo esclusivo perché io sono sicuro ne parlo a voi ma voi non mi credete perché non mi credete perché non avete messo il naso in questa mia verità non mi credete ed è questo il modo con il quale io sono costretto a esistere finché io esisterò nella mia vita con tutti voi messi di fronte a ciò che vi dico increduli perché perché dovrete avere la grandissima sorpresa di vedere a un certo punto dell'esistenza uscire proprio da questo soggetto in cui non si può credere una cosa grandiosa ma non frutto di un'alterazione del disegno divino ma proprio di una evoluzione del disegno divino che pone nel contesto delle cose dette da me una verità di totale salvezza per tutti gli uomini ora al mio personaggio può essere stato dato di farvi dire una grande quantità di cose più o meno serie più o meno apprezzabili più o meno ma se una sola verità è assoluta è di totale salvezza rispetto a tutto il nostro mondo essa non è inquinata dalle più o meno false altre verità che io posso avervi detto niente di tutto ciò è opera mia ma è assai facile che tutte le altre apparenti menzogne che nel disegno della mia vita il Signore ha messo nel mio personaggio lo ha fatto di proposito non vuole ancora una volta che le verità dentro di me siano in qualche modo apprezzate attraverso l'apprezzamento fatto al mio personaggio per questo il Dio in me le opere fatte da me quale persona può fare questa opera qui solo quella di cui niente si può dire come se fossimo di fronte a chissà chi chissà chi come grandioso come attendibile come allora quando tu mi dici caro Rashatafari scusami è un nome difficile da pronunciare sai quale persone li possono fare questi grandi miracoli li possono fare solo le persone totalmente incapaci di fare alcunché solo queste persone dimostreranno una totale incapacità fattiva che vi dimostra che in essi l'unico che fa è Dio la verità di un Dio che agisce lui e non voi esiste solo quando voi sembrate proprio dei totali inetti a dire qualunque cosa che sia vera è solo quando voi siete piccoli nella vostra dimensione di uomo nella vostra dimensione di spirito solo quando siete così che lo potete fare ma in che modo rovesciando interamente il vostro essere come ho detto all'inizio solo quando voi sarete un ennesimo quasi nullo è solo allora che si potrà presentare Dio il Dio di salvezza da questo valore nel valore esattamente uguale contrario n su 1 allora se la tua grandezza ora non è un ennesimo perché magari è 155 ennesimi e vedete non è un ennesimo ma 155 tanto che sembra che tu sei più capace perché non sei un ennesimo ma sei 155 ennesimi se appare questo allora ecco che la parte trascendente non è più questa perché la parte trascendente di un ennesimo è n la parte trascendente 5 ennesimi è n diviso 5 e n diviso 5 non è più tutto n come invece lo è quando è l'opposto di un ennesimo l'opposto di un ennesimo è tutto n l'opposto di 5 ennesimi è n diviso per 5 vedete l'apparente grandezza ennesima dell'uomo non vi rimanda a un dio totale perché tanto più grandi siete voi in apparenza tanto più voi costringete il totale a dividersi per questa apparenza dunque chi quali persone può fare questi miracoli tutti coloro che in apparenza sono totalmente incapaci di fare miracoli questi che hanno un valore ennesimo simile o quasi a zero che possono fare il miracolo indotto dall'unità di manifestarsi grazie al dio uno nel valore esattamente uguale e contrario a quell'ennesimo tanto da armonizzare poi ennesimo con n e ricostituire l'unità dell'assoluta presenza di dio credo di averti spiegato tutto caro amico con grande possibilità che tu lo abbia capito ma se non lo hai capito allora ti prego dimmi che cosa non hai capito oppure se voi che avete seguito non avete capito qualcosa chiedetemela perché il compito della mia vita è proprio questo io che non sono niente e nessuno nella mia apparente capacità fattiva sono proprio la figura ideale a poter rappresentare quel valore totale in tutto ciò che è esattamente uguale e contrario a me stesso in tutto ciò che totalmente trascende me stesso gli altri che sembrano più capaci non lo sono Dio sta nei piccoli e lo disse Gesù ogni cosa che avete fatto o non avete fatto ai miei fratelli più piccoli non lo avete fatto a me più piccoli